Io credo che a valle degli strumenti è importante avere un progetto e quindi forse oggi sarebbe bene chiarire la Calabria che è un punto strategico nell'ambito del discorso del PNRR Sud e così via e quindi quali sono le leve per mettere in moto quello che noi diciamo il secondo motore che manca ormai da 30 anni al paese in un momento un po' complicato perché si parla di autonomia, non si capisce neanche quali sono i progetti a livello nazionale. Io credo che la ZES unica, c'è bisogno forse di un chiarimento e questo non può che venire dal Ministro, un chiarimento nel senso che la ZES unica per certi versi è ovviamente un'opportunità, ma è un'opportunità perché replica un aspetto di una vecchia politica, cioè la decontribuzione strutturale c'è stata fino al piano Van Miert, l'accordo Pagliarini che la eliminò se vi ricordate ed era ben più forte di quella che adesso è il 30%, allora era il 100%, quindi non è che quella fece lo sviluppo. Il problema della ZES, la ZES tecnicamente significa porti, retroporti, strutture, collegamenti. Allora qui o c'è un piano preciso, con obiettivi precisi, con una gerarchia, questo viene prima, questo viene dopo e da un certo punto di vista la ZES unica c'è un vantaggio che può avere una regia unica. Beh a giudicare quella che è stata l'esperienza della zona economica speciale in Calabria direi proprio di sì. I vantaggi che hanno avuto le aziende che sono volute insediare grazie alle misure previste dalla ZES e quindi i vantaggi fiscali e le procedure amministrative semplificate sono certamente un'opportunità. L'auspicio è che anche la ZES unica possa conservare questi vantaggi e che la governance prevista dalla ZES unica possa essere efficace così come lo sono stati i commissari sino a questo momento. Il timore potrebbe essere quello che questa governance, questa struttura di missione lontana dai territori possa pregiudicare l'operatività e quindi i vantaggi che sinora hanno avuto le aziende. Però io sono convinto che nel momento in cui comincerà ad essere operativa ne tasteremo quella che è l'efficacia e che conserverà sicuramente quelli che sono i vantaggi che le aziende hanno avuto sinora. Ci sono delle potenziali criticità che noi stiamo ponendo diciamo all'attenzione e di tutti. La prima è che nel momento in cui tu ampli in maniera smisurata il perimetro evidentemente le risorse non possono essere quelle che erano state già stanziate prima e con 2 miliardi e 8 sono assolutamente insufficienti. La seconda è che è stata alzata la soglia a 200 mila euro per gli investimenti quindi questo potrebbe significare tagliare fuori tante micro e piccole imprese di cui è infarcito il tessuto produttivo meridionale e soprattutto quello calabrese. Terzo bisogna capire senza commissari che avevano poteri sostitutivi e derogatori per quanto riguarda le autorizzazioni degli investimenti come funzionerà l'unità di emissione e soprattutto come si considerano quegli strumenti urbanistici dei vari antilocali. Quindi questo potrebbe determinare diciamo dei rallentamenti. E infine probabilmente c'è la criticità più forte cioè nell'attuale cabina di regia non sono considerate le parti sociali soprattutto Confindustria. Non essendoci ancora il piano triennale strategico che è quello che poi posta la base del funzionamento dell'EZES che deve stabilire le priorità, i settori strategici fondamentali e ci domandiamo come può essere fatto questo senza il contributo di coloro i quali sono le destinatari di questa misura le imprese. Quindi riteniamo che l'idea è buona però crediamo anche che bisogna che ci siano degli aggiustamenti come ad esempio lo svantallamento delle strutture locali che determina inevitabilmente la mancanza di quella prossimità che gli imprenditori stava facendo tanto bene con il modello precedente. Allora con il mantenimento delle strutture territoriali che ovviamente devono lavorare in condivisione con l'unità di emissione, con l'eliminazione della soglia, con la conciliazione con gli strumenti urbanistici che danno la possibilità di semplificare riguardo alle autorizzazioni e soprattutto con l'ampliamento delle risorse finanziarie io credo che questo sia uno strumento che nel tempo possa funzionare e possa funzionare bene.